salve salve a tutti ben ritrovati a metà di novembre siamo in piena costruzione della nuova tipologia di trasmissioni abbiamo molte idee molta carne al fuoco talmente tanta che questa sera non sapevo bene da dove cominciare per troppe cose da dire e i tempi ristretti e il fatto che sono sempre solo io non ho qualcuno che mi supporta col quale instaurare un dialogo perché giustamente voi ascoltatori di sentire sempre poi la mia voce la mia opinione poi alla fine stanca è normale che sia così cercheremo di attrezzarci anche in questo senso per ora per oggi mi dovrete sopportare così così da solo a fare questa specie di monologo che non vuole essere tale che ha la presunzione di un dialogo possibile auspicabile con voi cercando di interessarvi alle mie tematiche delle tante cose alla fine cosa rimane quando non hai un programma ben scritto no una una scaletta come si dice sulla quale costruire una trasmissione ti rimane quello che hai vissuto negli ultimi giorni e come sempre come dico sempre questo metodologia global local quello che accade a te se hai un po di mente aperta puoi arrivare a condividere o tentare di condividere i tuoi pensieri con quelli degli altri ci proviamo dopo un anno e passa sono finalmente andato al cinema con il mio bel green pass ovviamente che ho esibito ma ho avuto piacevole sorpresa che non c'erano le poltrone numerate quindi era libero insomma poi non c'era tanta gente va bene ma quindi ho trovato la mia la mia poltroncina di solito dietro che mi piace vedere da lontano lo schermo nero e questa magia questa magia del cinema questa magia unica e ripetibile che la televisione non potrà mai mai sostituire il cinema è sogno il cinema è in medesimensione in quella storia e se è costruita bene ti lascia buone sensazioni lasciandoti il tempo di riflettere e se ti porti dietro qualcosa vuol dire che il lavoro perché è un lavoro artistico questo è stato fatto bene trattaci di un film italiano fatto nel periodo pandemico quindi abbastanza teatralizzato nel senso che non ci sono tante riprese in esterna per tutte le difficoltà appunto no? di fare riprese in esterna in un tempo dove la mascherina non c'è non si parla di pandemia che poi mi dovete spiegare questa storia della pandemia che vuol dire tutto no? il dio Pan era il dio di tutto e però chi ci parla di questa cosa qua sono degli epidemiologi quindi qual è la risposta? è un'epidemia quindi infatti lentamente si comincia a parlare di epidemia e per convincerci che ci vuole la terza dose come tutte le campagne vaccinali si parla in tutte le epidemie in tutte le epidemie e quindi la pandemia è caduta perché poi nel globo ci sono situazioni completamente diversificate ci sono varianti che vanno da una parte e dall'altra insomma la scienza purtroppo ancora del SARS-CoV-18 sa tutto ma del SARS-CoV-19 ancora mi viene da dire brancola nel buio e quindi si aggrappa all'idea dei vaccini e alla minima difesa che vedono che comunque un pochino si migliora e quindi ci sono i vaccini c'è il distanziamento sociale c'è l'obbligo della mascherina sul discorso del Green Pass io non dico nulla perché è una specificità direi prevalentemente italiana dove si è messi di punta sul discorso del lavoro Green Pass per andare a lavorare e vabbè insomma ci sarebbero da dire tante cose e il dibattito è aperto di fatto però succede io ho contatti con un paio di amici che sono vicini a questo mondo del No Green Pass non parliamo di No Vax attenzione No Green Pass cioè che a fronte di sono persone che sono vaccinate fra l'altro che hanno il Green Pass ma che si oppongono alla estensione totalizzante del Green Pass in qualunque ambiente in qualunque situazione per andare a lavorare e su questo in effetti qualche dubbio mi pare legittimo mi pare legittimo se persone di una certa capacità di analisi riconosciuta come George Agamben come l'ex sindaco di Venezia se non mi viene il nome filosofo Cacciari che ho sempre ascoltato per la sua libertà di posizione a fronte di varie problematiche perché quando uno ha conosciuto il pensiero e la scienza degli ultimi due, tre secoli in maniera profonda beh ha diritto di dire la sua ha diritto di dire la sua e guarda caso non dice stupidaggini il più delle volte poi ovviamente ha la sua posizione può essere criticabile però che non abbia diritto di dire no c'è tanta altra gente che invece io farei volentieri a meno di sentire infatti non l'ascolto più ho piombato la mia televisione da mesi sto benissimo poi ritorno al film magari un accenno finale però adesso ho preso questo questo giro qui che mi sento con voi come se fossi al bar e dico la mia così dall'altra parte non mi non mi non mi sconfessa nessuno quindi è perfetto bellissimo ho sempre ragione io insomma cerco di essere visto che sono qui in vette comunque di comunicatore di vedere il più possibile le due sponde di ogni di ogni dialogo insomma cioè di di autocriticarmi anche perché altrimenti avere una posizione ed essere puramente assertivi come si dice nel mondo della comunicazione cioè io dico io ho ragione cioè ho ragione su questo su questo su questo divento monologo 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 va bene al teatro va bene ma in radio no il monologo non interessa a nessuno anche se magari può piacere sul momento può anche diventare virale però non si fa comunicazione in questo modo e quindi come diciamo noi qua in Romagna che ricordo sempre sono romagnolo ma lo si sente anche da come parlo non mi nascondo dietro un dito per fare un fosso ci vogliono due rive cioè due due sponde no è inevitabile e quindi un po' tutte le cose ogni ogni medaglia il suo rovescio e tutte quelle belle rubine lì perché veramente è così veramente è così e veramente non c'è mai la verità è una chimera la verità probabilmente non esiste io una volta scrissi che la verità sta nel dirla cioè nel senso che se difendi molto bene le cose che stai dicendo quella è la verità e se tu ti imponi agli altri e fai in modo che gli altri nessuno possa mettere in discussione quello che dici quella è la tua verità quella è la verità del potere attenzione ho detto una cosa importante questa è la verità del potere nel senso che se quello che io ti dico lo faccio supportare da argomentazioni storiche sociali mediche scientifiche economiche statistiche beh questa è la verità dunque come si è sempre detto da tanto tempo lo ha scritto Michel Foucault il sapere è potere da sempre quindi perché ha senso ascoltare Radio Sayus e tutte le nostre trasmissioni non la mia in particolare perché ci si fa un'opinione ci si fa un'idea di quello che sta accadendo attorno a noi e dunque e dunque questo passaggio da pandemia in maniera sotterranea in maniera molto sottile si comincia a dichiarare che è un'epidemia e che come i vaccini antifluenzali ci vuole il suo richiamo e quindi l'influenza è un'epidemia e quindi anche in questo caso ci vuole richiamo tutto bene tutto a posto basta che appunto non mi facciate di questo che è un problema mondiale sicuramente lo è stato lo è stato per tanto tempo lo è tuttora per certi esperti però non lo facciamo diventare un veicolo di paure e questo pare che invece accada a me fa tristezza vedere coppie di anziani con la mascherina a testa bassa che vanno vanno al supermercato impauriti di avvicinare un magari un giovinato che si allunga per prendere i pomodori davanti a loro si ritraggono impauriti certo sono le persone più fragili e quindi sono le più sensibili a questo a questa problematica insomma c'è tanta tristezza in giro c'è tanto mi fa specie mi fa specie vedere ma anche per dire al bar la domenica si parlava normalmente prima di questa di questa malattia mostruosa che insomma ci ha invaso la vita personale di tutti noi di di calcio di quello che era di sport in maniera serena tranquilla davanti a una birra oggi distanti ognuno ognuno che parla con il proprio smartphone ripiegati sullo smartphone questa è l'immagine che si vede continuamente seduti al tavolino del bar soli con la mascherina ripiegati sul proprio smartphone beh non è che sia molto edificante per me è più preoccupante questo degli effetti di una malattia che siccome neanche i maggiori essenziali al mondo sanno dire la parola fine se vi permettete cioè insomma io vi ascolto e vi chiedo di lavorare di più come chiedo di lavorare di più agli studi di ricerca all'interno delle compagnie farmaceutiche cioè è più la ricerca in una in un'impresa farmaceutica la ricerca per il bene della salute collettiva o è più la ricerca per un modello di business vincente del proprio prodotto farmaceutico datemi una risposta e signori del del farmaco mondiale fatevi una domanda insomma è un po' questo di fatto insomma mi verrebbe da raccontare anche di un'esperienza personale ma la taglio corta e la metto proprio come definizione per default niente a dire signori miei è un'esperienza molto vicina a me è purtroppo legata a un problema personale che non c'entra con il covid 19 di incontro con l'ospedale con servizi di pronto soccorso servizi di radiologia ecco bellissimo questa qui della radiologia va raccontata allora devo fare una radiologia però sospetta frattura a un piede bene e quindi c'è l'urgenza del mio medico si è gonfiato il piede che vai a verificare bene vado per arrivare facevo un po' fatica perché con la base dell'alluce sospetta frattura alla base dell'alluce ad appoggiare poi mi faceva male chiedo un un barrelliere ah no in questo orario in questo orario non facciamo servizio cioè uno ha un piede rotto deve arrangiarsi da solo va bene andiamo servizio di radiologia ha molta fatica ci arrivo prima vai nell'accettazione ti dicono subito la prima cosa che ti dicono è quanto devi pagare bene 21 euro e 75 ma nonostante che vengo al pronto soccorso ah mi dispiace ma si è anche un po' alta mi dispiace bene 21 euro e 75 vengo a sapere da una signora che era con me che portava il suo figliolo che per per accedere con la prenotazione il ticket è di 17 euro e rotti non ricordo e io pago 21 euro e 75 perché mi chiedo ma perché io pago di più ah è per l'urgenza giustamente l'urgenza viene fuori la signorina e chiede chi ha la prenotazione ha la signora ha la signora entra prima lei ha l'urgenza no ma purtroppo passa davanti alla prenotazione ah bellissimo cioè io pago 4 euro e rotti in più però chi ha la prenotazione ha la precedenza spiegatemi signori dell'USL in questo caso l'USL numero 38 ben definita numero 38 a livello italiano ausl azienda perché si chiama azienda attenzione azienda sanitaria locale è un'azienda è un'azienda e chiede a far tornare i propri conti quindi si fa pagare i servizi quindi anche i servizi di urgenza quindi e quindi ho verificato per altre cose che conviene ad andare da un ospedale privato che ti dà l'immediato ospedale un circuito nazionale di ospedali privati nazionale molto importante che è in tutta Italia adesso non so nel centro nord però insomma qui in Emilia Romagna c'è ovunque hanno fatto hanno fatto rete e sono tutti ospedali privati con dei dei nomi fra l'altro tra i tra i medici insomma non sono medici di primo pelo sono tutti professionisti di un certo di un certo livello insomma per un un altro tipo di visita che dovevo fare ho verificato che io avevo l'urgenza di sapere una risposta su una mia problematica e quindi una visita dermatologica dunque e l'ho chiamato venerdì per il lunedì nulla da fare solamente mercoledì con l'azienda USL fra l'altro non neanche nella mia città dovevo spostarmi e a euro 140 in Tramoeni attenzione in Tramoeni cosa significa significa che vengono utilizzati i locali pubblici dell'USL pubblici fino a un certo punto visto che si chiama azienda però comunque ufficialmente pubblici per il professionista può fare una visita privatistica nel Entramoeni si chiama ok 140 euro il circuito ospedali privati 120 euro il lunedì e io cosa faccio vado perché volevo una risposta subito vado fra l'altro risparmiando 20 euro rispetto a due giorni dopo per gli ospedali privati questo cosa significa che la sanità italiana ma non non da adesso da mo è svenduta venduta ed è privata cioè siamo messi come in America ti si rompe un piede ti devi arrangiare devi pagare 21 euro se no stai col piede rotto non gliene frega un cappero a nessuno hai un problema dermatologico vuoi sapere una risposta paga 140 euro se no aspetti due mesi e il tuo problema diventa un problemissimo che poi viene aggredito con le solite armi che usano i medici ormai possono mettere una targhetta fuori anch'io medico che ti cura tutti i mali con antibiotici qualche crema e cortisone il 70% delle patologie vengono curate in questo modo allora cari signori medici che ho potuto verificare anche quanto girando appunto in ospedale in questi giorni quanto ci sono i cosiddetti eroi eroi di che cosa sono dei lavoratori che fanno il proprio mestiere punto ci marciano siccome c'è questa paura diffusa e bisogna stare attenti oddio oddio il covid percorsi definiti all'interno dell'ospedale i signori che fanno soprattutto che fanno seguono altre cose quindi radiologia ortopedia posso dire la mia? secondo me ci marciano ci marciano cosa vuol dire? cioè utilizzano questa diffusa paura per farne meno chi vi parla è uno che per una vita ha vissuto negli ambienti parastatali esattamente come sono quelli dell'OSL parastatali e so bene quali sono i meccanismi sono gli stessi perché gli uomini sono gli stessi e non mi venite a dire che tutti sono 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 innamorati di Ippocrate e del giuramento di Ippocrate e vivono il loro lavoro come una missione perché non è vero non è vero ho un esempio anche in casa mia nella mia famiglia allargata non posso fare ovviamente nomi come perché non in quanto mia sorella so benissimo mia sorella il lavoro che fa e lo fa anche ma lo fa perché gli piace non perché ha una missione in testa di diventare una santa non esiste questa cosa certo che ci sono persone che per l'amore del proprio lavoro si sono dati e ci hanno rimesso anche la pelle ma questa è la colpa di chi non gli ha creato le condizioni per lavorare in sicurezza e prima o poi il conto verrà fuori e sarà molto salato giustamente molto salato come anche come anche e mi viene da dire sarà molto salato il conto per quanto riguarda le aziende che in questi cioè già molte hanno pagato e continueranno a pagare è uno dei primi discorsi che ha fatto il signor Draghi parlando di aziende che durante questa pandemia risulteranno inadeguate cioè che non avranno gli strumenti per sopportare questo impatto potente della crisi economica conseguente e collegata con la malattia e queste cioè con fare abbastanza curiale allargando un po' le braccia il signor Mario ha detto è purtroppo è purtroppo purtroppo ci sono già tante aziende che sono saldate per aria altre che salteranno per aria chi rimarrà in piedi rimarrà in piedi chi seguirà le direttive le direttive che sono legate ai soldini che lui stesso ci farà ha contribuito a farci arrivare e ci sta facendo arrivare pare per rimettere in piedi la nostra economia però ci saranno molti cadavri ancora e ci saranno anche i cadavri spero mi auguro su chi anche a livello amministrativo ha fatto grandi errori perché e questo lo voglio dire volevo parlare del film del cinema ma sono troppe cose che mi bollono dentro e una in particolare due direi in particolare ritornando a marzo febbraio marzo 2020 io ho avuto l'impatto tornando da un piccolo viaggio in Scandinavia il primo impatto è qualcuno che misurava la febbre oddio cosa è successo ecco a me mi ha misurato la febbre quindi negli aeroporti c'era già l'allerta ma perché ripeto perché perché ripeto due volte non è stato bloccato quel famoso volo Milano one ditemi perché questo è importante scusate il telefono e perché si è voluta fare far svolgere quella famosa partita che mi pare fosse la Sampdoria non mi ricordo Sampdoria la squadra di Bergamo cioè l'Atalanta mi pare proprio fosse l'Atalanta Sampdoria mi pare la Genova comunque che poi sicuramente in parte ha contribuito a una macchia d'olio di contatti infetti in quella città con tutte le conseguenze mostruose che ci sono state quindi io chiedo a gran voce chi chi non ha fermato il volo Milano one chi in onore del calcio italiano che è uguale investimenti finanziari perché questo è diventato quello che non è più uno sport mi spiace per i calciofili però a prenderli uno a uno tutti dicono eh sì il calcio non è più però poi tutti guardano la partita stasera mi raccomando non mollate stasera tutte queste robine qua insomma sono sono domande aperte che che mi va di di riportare qui in questa trasmissione quindi riassumendo cosa ho detto motivi per cui la dalla pandemia si passa a parlare di epidemia motivi per cui la sanità è allo sfacelo è venduta è privata non si parla più di sanità pubblica e quindi bah se anche anche solo per un attimo il signor Roberto Sperazzi mi pare che si chiami così che apparentemente si vena di essere una persona riformista a favore delle problematiche dei lavoratori e del popolo che cosa sta dirigendo non lo so sta dirigendo la grande sanità pubblica italiana degli anni 70 80 o qualcosa d'altro glielo chiedo qualunque risposta è valida e poi e poi queste cose qui questi voli Milano che hanno durato ancora per giorni quando si sapeva già che in Cina era scoppiato il finimondo e non si sapevano quanti morti già c'erano tutt'ora non lo sappiamo mai lo sapremo da quel regime là che mi raccomando mantenete sempre questa certezza che quello è un regime è un regime dittatoriale dove la stampa pubblica non esiste qui in Italia esiste la stampa pubblica si va difesa anche e chi attacca i giornalisti si deve mettere una una mano sul cuore però quanti giornalisti sono irregimentati e dicono solo qual è la vox populi dicevano i latini cioè la voce del popolo ma che era la voce del senato era quella del potere è un clima non proprio dei migliori non proprio dei migliori viene da pensare tante robe ma lasciamo correre perché pensiamo alla nostra salute mentale ed è meglio pensiamo all'unica cosa che ci rimane che è sicura e certo la nostra famiglia e cerchiamo di di mettere i paletti lì e di usare questi momenti per rinforzare le cose belle che una una famiglia ti dà anche se molte volte la famiglia è un diventa un un coacervo scusate la parola è un po' astrusa non mi viene in mente altro questa è la sfortuna di chi ha letto qualche libro che alla fine ti entrano dentro alcune parole non sai più le parole non conosci più le parole semplici non è un vantaggio soprattutto per chi cerca di fare comunicazione comunque il coacervo un un insieme un po' infetto molte volte anche in famiglia di cose non belle ma cos'altro ci rimane davvero cos'altro ci rimane io mi sto già attrezzando sto già vivendo come fossimo in un probabile futuro lockdown sono ritornato un po' agli stili di vita del marzo aprile 2020 non ci sto male perché poi comunque ho tante cose da fare da scrivere da da puntarmi da tanti progetti esco poco vedo poche persone perché poi comunque la comunicazione non è che sia il massimo in questo periodo in generale io sono un 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 privilegiato poter essere qui in video con voi davvero un privilegiato e ringrazio la mia radio che mi dà questa opportunità e niente finisco raccontando in due in due secondi questo film un film con come si chiama il nome non me lo ricordo comunque accorsi stefano accorsi esatto stefano accorsi un grande artista secondo me un grande attore e un'attrice che non conoscevo miriam leone ma hanno fatto delle serie tv o delle fiction non so assieme lei è abbastanza giovane lui ormai è un consumato attore non è non è anziano ma ormai nella piena maturità infatti insomma molto bravi insomma insieme la storia di questa coppia che sono due persone non sono la coppia attenzione la coppia che sono sulla scena di queste due persone che sono completamente diverse come problematiche psicologiche ma insomma persone un po' disturbate e la cosa geniale del film è che questa la protagonista che è una una persona che non riesce a non a non trattenersi dal dire bugie dal dire bugie ad arte in maniera perfetta inattaccabile talmente brava che si inventa avendo avendo loro questo gruppo di autoaiuto con una psichiatra che li segue un gruppo di persone un po' disturbate tutte tra cui appunto c'è anche Stefano Accorsi che fa la parte di Guido mi pare il nome è un cuoco ma che ha un problema con la figlia che vede poco con la moglie ed ha un problema che quando è pieno di tic quando non ce la fa più sbrocca come si dice non si controlla e distrugge quello che ha davanti insomma senza freni mentre invece l'altra è una bugiarda seriale insomma talmente brava che inventa cose ma veramente inverosimili però le racconta talmente bene che lei stessa poi ci crede insomma ci crede a quello che dice questo sarebbe interessante per sarebbe un film pedagogico per tutti quelli che fanno storytelling che si inventano storie e talmente bravi inventarsi storie che parerebbe che abbiano una vita io sono andato a sentire qualcuno hanno una vita intensissima ma sono semplicemente dei cantastorie le cantastorie che si inventano delle appunto delle storie e le sanno raccontare questo lo storytelling è una forma di bugia ad arte no e questo è una bugiarda seriale però ha delle patologie insomma perché arriva a delle cose che non lo fa non lo fa in un palco ma lo fa nella vita insomma di raccontare bugie e mi viene da ridere perché sono delle scene abbastanza divertenti poi vi dirò il titolo se mi viene in mente mi spiace che in questo momento mi sfugge è un film che è in seconda visione è già uscito nelle sale io l'ho visto in seconda visione insomma siccome si trovano qui e fanno da mangiare qualche volta per dei vecchietti che vanno lì così per fanno qualcosa insomma questo gruppo dell'altro aiuto essendo lui cuoco Giovanni della situazione che poi Stefano Accorsi coinvolge gli altri insomma a fare qualcosina per far da mangiare ogni tanto così e lei si inventa siccome è costretta sperava di poter uscire dal gruppo ma continua a dire bugie viene scoperta ogni volta e quindi non può uscire dal gruppo si inventa un ipotetico ristorante che non esiste attraverso i social falsificando addirittura le opinioni dei dei clienti che non si sono andati in questo ristorante che non esiste con delle immagini create ad hoc o prese da altri ristoranti di pietanze incredibili uniche irripetibili e insomma coinvolge poi anche l'amico Cuoco e insomma alla fine creano un'aspettativa incredibile attraverso la potenza dei social di gente che non aspetta altro che l'apertura di questo locale dove fra l'altro si serve un'unica pietanza perché comunque il Cuoco è un po' disturbato e più di una pietanza non ce l'avrebbe fatta ed è bellissimo appunto non vi dico il finale perché poi c'è tutta una serie di addentellati con le loro vite private personali di questi due protagonisti e l'immagine bellissima è appunto della gente che attraverso la bugia è diventata virale sui social c'è una fila incredibile e quando entrono si sentono in un posto esclusivo quando il posto è gestito da dei matti e da un cuoco che è mediocre e riesce a fare un piatto e non più di quello pazzesco incredibile dovrebbe insegnare molte cose a molte persone oltre che comunque fare anche un discorso interessante sul recupero della diversità mentale che non è poi così tanto diversa da certe follie collettive e non dico altro e con questo un abbraccio un saluto distinto cortese e alla prossima trasmissione ciao a tutti